Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello, in direzione Bologna rallentamenti tra Baldarno e Firenze Sud e sulla variante di Valico tra Barberino e Badia, sulla A11 code in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est e in direzione Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peritola, sulla Fipili in direzione Mare code tra Ginestra e Montelupo e in uscita all'Astra a Signa in direzione Firenze code a tratti tra Lastra e Firenze e Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori rallentamenti in entrambe le direzioni tra Badesse e Monterigioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!